Ora parlami di Karin. Non la conosco molto bene. Oh, lei è meravigliosa. Gass e io siamo davvero fortunati con le donne straordinarie. È solo che lei... Non importa, ti cerco qualcosa da leggere. No, aspetti. Rimarrà tra noi. Ma certo. Ecco. Sono un po' preoccupato. Credo che abbia un piccolo problema. Forse non dovresti dirmelo. No, no. Penso che dipenda dalla sua insicurezza, perché... lei vuole abbracciare tutti continuamente. Vede, non tutti amano essere abbracciati, alcuni non lo sopportano, ma lei non lo capisce, la prende come un fatto personale. e pensa che... insomma, si offende. Io non so come comportarmi. che ne pensa? A volte è così rassicurante essere abbracciati da qualcuno. Non credi? No, no. È così bello. Non è bello per niente, fa male. Ah. come un taglio o un colpo? Come un ostione, come quando sei in mezzo alla neve e non senti più i piedi. Rientri in casa e ti si scongelano. e... è esattamente così che mi sento. È lo stesso con tutti? Comienca non succede. Eh. Con tutti gli altri sì. Quindi non ti lasci toccare da nessuno? E non è complicato vivere così? No, non direi, perché ho tutte queste strade indosso. Un po' mi aiutano. Ascolta. E normalmente mi sento un foglio così. Ma quando vai andando...